Beh, stanno andando molto bene le cose, ovviamente il fatto di essere davanti nei round robin ci rende felici, però dobbiamo continuare a lavorare bene, migliorare giorno dopo giorno e non dobbiamo assolutamente sentirci soddisfatti. È importante tenere i piedi per terra e lavorare duro, lavorare sodo. Sì, sentiamo che la barca va bene, è una barca veloce, però non abbiamo un margine enorme rispetto agli altri team. Semplicemente abbiamo fatto le cose per bene, non crediamo di essere lenti, ma dobbiamo fare pochi errori per poter vincere le regate. È ancora così, per fortuna è molto divertente, perché chi fa meno errori vince.